E dall'esterno dell'hotel Vesuvio, con il Milan in ritiro, siamo qui con un tifoso dell'Ajax, vedete che ha sia la tuta sia anche questo bellissimo tatuaggio, tifoso che si chiama David. Qual è il tuo nome? Il tuo nome è David, è corretto? Il nome è David, sì, è corretto, David. E dove sei? Sono da Amsterdam. Amsterdam, la città? Ajax, Amsterdam, sì, ovviamente. E sei qui per il turismo o per quello? Sì, per 5 giorni, in questi 5 giorni ci sono due game di Napoli, uno per Verona e uno per AC Milan, quindi siamo molto felici. E per il giorno, il match contro AC Milan, quale club ti supporti? Io supporto Napoli, è un team molto buon, tutti i giocatori di Ajax, come Ruth Kroll, sono giocati da Napoli, quindi anche da Napoli. E tu supporti Napoli, despite the 6-1 of the group stage? That's the game, that's no problem, that's no problem. So, your prediction about tomorrow, your prediction? I hope 2-0 for Napoli. 2-0? I think so. Ice win this time. Thank you very much, and have a good luck for Ajax, and enjoy your trip here in Ables, David. Same for you, and hope for a good game tomorrow. Thank you. Thank you.